Come ogni anno possiamo dire che è pieno di giovani, di ragazzi, c'è sempre molto entusiasmo, però se dobbiamo essere sinceri e guardare alla realtà concreta, molti di noi sono anche un po', uso una parola brutta, depressi, perché quando veramente si tratta di passare dal lobby, noi poi appunto a livello universitario magari lo facciamo per divertirci, ma quando poi proviamo a farlo diventare un mestiere, una professione, ci scontriamo con un mondo che ci sembra un po' poco professionale, molta mediocrità, pochi maestri da guardare con ammirazione e quindi insomma, lei come la vede? Che cosa direbbe a questi ragazzi? Perché dovremmo continuare a farlo questo mestiere? Allora, questa è una risposta, è una domanda lunghissima, avete visto? La mia, che è già una partenza così così, ma lo perdoniamo. È uno sfogo, guardi, siamo, siamo. Allora, dopo questa domanda lunghissima la risposta è breve, perché qualcuno dovrà fare il giornalista fra 10, 20 anni e 30 anni e siccome toccherà a qualcuno dovete farlo voi, perché è un lavoro meraviglioso, perché ci sono strumenti strepitosi che qualche anno fa non c'erano, perché se adesso non esiste un modello di business, un modo ovvio di lavorare bene e guadagnare bene, che è sacrosanto, arriveremo anche a questo e soprattutto perché qualche strumento c'è, per esempio le scuole di giornalismo sono uno strumento vero oggi, a disposizione dei ragazzi che hanno una laurea breve, quindi invece della specialistica fai la scuola di giornalismo, i miei studenti della Walter Tobagi di Milano del Master di giornalismo, io ho fatto tre anni, facevo un corso, i ragazzi e le ragazze lavorano tutti, quindi questa non è teoria, è pratica. Oddio, la mia risposta era lunga quasi quanto la sua domanda, che è tutto dire. La differenza è che la domanda la tagliamo, la risposta no.